...e uno dei più posti in più, di delibitarne, di un po' artico, di un marco. C'è un luogo che nasce profondamente dalla natura. Dava accoglienza a chi era destinato a entrare su queste valli profondi politiche e per iniziare a rispondare, a rendere visibile il luogo del territorio. La bellezza di un marco, dal fatto che è un elemento della natura, perché il materiale di costo, che è un luogo più lungo, e per iniziare, il legno per la parte attrativa, ovviamente proveniva dal discolamento del serenito, per cui è un mestolo, come è lo chiamo, che entra in perfetta sintonia, non è bella, non è bella, non è bella, Siamoci. Oh, 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 oh. Siamoci con il servizio che, diciamo, rinunisce due termine, territorio e paellato. L'altro, che è tutto quello che è. Stiamo parlando, diciamo, dei cinghò, per il servizio secolo, alcuni, diciamo, i primi, i pochi contadini vengono qui, spesso anche su un micro, alcuni per la tale, che poi delimita anche un'altra l'aspetto molto interessante che qui parliamo di rapino di rapino, di rapino, di rapino, di rapino ma anche poi che fa con il tuo libro e tu hai anche scritto un libro che parlo a dei mari abbiamo fatto una documentazione sui condimenti maghi della Baglia Avena che lì si chiamano Medes e cosa molto curiosa la Baglia Avena che è tornata così propenente a il ragionismo del tuo regno nonostante questo conserva una serie di mari che ha iniziatura di altre ricette questo non lo lanci e anche qui questo mato qua mi ha finito la carta e ma so mangio vai sono libero, vai sono dentro la carta se lo faccio grazie vai sono dentro la carta sono dentro le vacanze sono dentro la carta Pagli sotto la zona della carter, sono carico! Chi è finito in la serie? Willis! e poi che sbagliare è il tavolo eh meglio aggiungiamo le due rette la farina conacciata il lievito e infine il latte sta bene giù partitina grande eh ci guardiamo con il commento fatto da noi non andiamo a commentarla noi e poi se andiamo sul canale la bovotip la commentare quelli miei non la bovotipi se fai solo la bovotip la commenta no? o bovotipi, cassano, vengono cos'è la bovotipi, perché se la bar殴 sta per la foto 20 improve uno soprattutto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.